Cinque albanesi tra i 21 e 37 anni residenti in provincia di Firenze sono stati arrestati dalla polizia con l'accuso di essere responsabili di alcuni furti messi a segno nei giorni scorsi per l'esattezza tra il 16 e il 20 luglio anche in provincia di Arezzo, soprattutto in Val Darno, Lorociuffenna, San Giustino, Castelfranco, Piandisco, ma anche in Casentino nel comune di Poppi. La base operativa della banda era a Firenze, qui organizzavano i colpi, non sempre però portati a compimento per una serie di imprevisti. La rifurtiva era composta soprattutto da orologi, monili, denaro contante per circa 18.000 euro. Tre di loro, secondo quanto ha riportato la Questura, parlavano di punti in ordine al loro raccolto, scambiandosi commenti sulla bellezza delle case e si rallegravano dei risultati ottenuti facendo chiaro riferimento ai proventi dell'attività illecita. Durante il blitz sono rimasti feriti quattro agenti della squadra mobile, due di loro hanno riportato lesioni guaribili in 20-30 giorni, altri due lesioni più lievi con 7 giorni di prognosi.